Musica Milano riapre i battenti dopo la pausa estiva Inizia il conto alla rovescia per Expo Ma ci sono anche purtroppo i rincari Le nuove imposte e l'arrivo della città metropolitana Il presidente Maroni risponde a un uso duro Allo sblocca Italia di Renzi I 200 milioni del decreto destinati alla Lombardia Non sono sufficienti a terminare le opere incompiute C'è nata una di nuovo protagonista Di un ennesimo sequestro da parte della polizia locale Questa volta si tratta di giocattoli e materiale elettrico Non conformi alla legge Il Milan di Pippo Inzaghi risponde alla Juve Mentre l'Inter si inceppa a Torino Ultimi colpi di mercato con Biabbiani in rosso nero Intanto Conte prepara il suo esordio in azzurro Buonasera, buonasera anche dal TGN Ben ritrovati al nostro quotidiano di informazione E partiamo ovviamente dopo la pausa estiva Con la ripresa si rientra dalle vacanze Per chi ha avuto la fortuna di andare E Milano riprende la sua vita tradizionale Guardando però a tanti problemi Ma anche a tante opportunità che si stanno per affacciare Che si affacciano sulla nostra città Sullo sfondo ovviamente l'inizio di Expo Expo 2015 Ma ci sono anche le nuove tasse I rincari La città metropolitana che sta per arrivare E anche l'inizio dell'anno scolastico Sentiamo Alberto Carreras Agosto, le vacanze, il maltempo Tutto ormai archiviato Da oggi Milano riparte guardando E soprattutto sperando in Expo 2015 Possibile occasione di lavoro e di ripresa I milanesi si dovranno confrontare Con la nuova città metropolitana Che nascerà il primo gennaio del prossimo anno Quasi certa la ricandidatura del sindaco Pisapia Ma con quale coalizione Il Partito Democratico lo sosterrà ancora Quesiti che dovranno essere sciolti nel breve periodo Ma il primo impatto è quello dettato dalle imposte Tassa dei rifiuti Stanno giungendo i primi bollettini Nelle cassette postali Primo versamento entro il 16 del mese Poi conguaglio entro il 30 novembre E poi la nuova tasse La tassa sulla prima casa Prima rata il 16 ottobre Poi la seconda il 16 dicembre Ci sarà anche l'Imu sulle seconde case Sui commerci In questo caso il conguaglio È sempre previsto per il 16 dicembre Da oggi rincarano i ticket per i pendolari 61 centesimi per i biglietti e abbonamenti del metrone Le tratte interurbane Per i treni regionali E i pullman provinciali Aumenti anche per i tesserini mensili annuali Che riguardano i tragitti al di fuori della città Da 62 a 63 euro al mese E da 484 a 488 euro per l'annuale Un leggero incremento anche per i biglietti integrati di Trenord La Milano di settembre deve fare i conti anche con i circa 200 cantieri stradali Molti hanno subito rallentamenti a causa del maltempo d'agosto Tra questi l'intervento più ampio è quello relativo alla Darsene a Piazza 24 Maggio E poi rifacimento di strade e marciapiedi un po' ovunque Il Comune vuole arrivare all'appuntamento di Expo Con una città il più possibile bella e ospitale Per i milioni di visitatori previsti Anche se non ci sarà la linea 4 della metropolitana E la 5 verrà aperta solo parzialmente Mancheranno ancora 4 o 5 stazioni al completamento E mancherà anche il nuovo Palalido La cui costruzione è stata bersagliata da problemi di tutti i tipi Il La Basket ripartirà dal forum di Assago Infine lunedì 15 settembre si torna sui banchi Con la riapertura delle scuole Dalle elementari alle superiori 350.000 studenti circa Tra Milano e provincia Oggi sono iniziati i corsi di recupero per i rimandati I genitori devono confrontarsi con il caro scuola Gli aumenti tra libri, quaderni, borse e accessori Si aggira sul 15% in più rispetto allo scorso anno E tornando dalle vacanze L'altro evento che si misura è quello dei saldi E non nasconde le difficoltà Che sta attraversando il mondo del commercio Nella stagione dei saldi Renato Borghi Presidente di Federazione Moda Italia E vertici di Concommercio In agosto c'è stato qualche segnale di ripresa Nei negozi del centro soprattutto abbiamo visto Un leggero miglioramento rispetto a luglio Grazie ai turisti stranieri A differenza della periferia e delle zone decentrate Dove però, dice Borghi, i negozi hanno sofferto Perché i consumi delle famiglie sono ancora al palo Leggero aumento dello scontrino medio a Milano Passato da 92 a 95 euro E adesso passiamo alla politica Nuova dura polemica del governatore Maroni Nei confronti del governo Perché i 200 milioni stanziati per la statale regina Nel decreto sblocca Italia Annunciato da Renzi venerdì Sono pochi Dice Maroni che in Lombardia sarebbe dovuto arrivare a un miliardo Ma nel mirino del governatore C'è anche la protesta no canal E l'atteggiamento dei vertici di Expo Sentiamo Jacopo Casoni Il fastidio c'è ed è pure parecchio Non serve leggere tra le righe Maroni è più che esplicito Il decreto sblocca Italia Non sblocca certo la Lombardia Considerato che la Lombardia è un quarto del PIL nazionale Quello che sarebbe dovuto arrivare a Lombardia È circa un miliardo Invece sono arrivati poco più di 200 milioni È meglio che niente naturalmente Però sono deluso Ci aspettavamo molto di più I soldi di cui parla il presidente Lombardo Sono i 210 milioni stanziati Per la variante della statale Regina La strada che costeggia il lago di Como E che da anni richiede interventi Che rendano più scorrevole il traffico Non bastano quei 210 milioni Per cantierizzare l'opera ne servono 330 E il ministro Lupi ha fatto capire Che dovrà pensarci la regione Maroni vorrebbe una modifica sostanziale In sede di conversione del decreto Un intervento che rivedendo il piano delle opere finanziate Garantisca la copertura totale Dei lavori per la variante E i toni netti di oggi sono il preambolo al lavoro Sui tavoli romani che il carroccio proverà a impostare Nelle prossime settimane Maroni poi torna a parlare di Expo Liquidando con un eloquente E solo una decisione politica La cherel sui bronzi di Riace Ma è il progetto delle vie d'acqua La vera spina del presidente Proprio nel giorno in cui a Milano Si è tenuto il forum delle città Che hanno al loro interno corsi d'acqua navigabili Si registra una nuova forte presa di posizione Dell'inquilino di Palazzo Lombardia Perché quel progetto a cui tanto tiene È impantanato Frenato dalle proteste dei No Canal E secondo Maroni Da un atteggiamento troppo permissivo di chi può Anzi deve Imporre un ritmo diverso all'incedere di Expo 2015 Queste proteste hanno indotto la società a fermarsi È stato un errore E io continuo a chiedere alla società Che prenda una decisione rapidamente Perché l'Expo è qui E infatti I lavori per realizzare il tratto di via d'acqua Nei parchi Trenno e Pertini a Milano Ufficialmente sono ancora congelati E la società Expo ha annunciato di aver ripreso E far muovere gli operai Solo a nord delle aree verdi Per realizzare la soluzione di emergenza Che permetterà all'acqua che circonda i padiglioni Di fuoriuscire dal sito Ma gli abitanti non ci stanno Perché anche i comitati continuano a temere Che il progetto vada avanti Per difendere alberi e spazi verdi Hanno organizzato una nuova manifestazione itinerante Come vedete dalle foto Hanno attraversato i parchi di Trenno e Pertini Distribuendo volantini Disegnando la linea di confine Che non dovrà essere oltrepassata Dai cantieri Expo Ed esponendo cartelli proprio lì Dove ci sono le ruspe E le trivelle Appunto Messe lì Dalla società di gestione A proposito di ristrutturazione di progetti Le nuove norme volute del governo Hanno dato meno soldi Come dice Maroni Ma dovrebbero permettere Ristrutturazione Scusate Degli appartamenti In maniera più semplice e veloce E la cosa riveste una grande importanza A Milano Che dispone Pensate di 790.000 alloggi Vediamo Sono 790.623 Gli appartamenti a Milano In media gli alloggi Hanno una superficie di circa 90 metri quadrati Esattamente 87,70 Con il decreto Sblocca Italia Varato dal governo Dovrebbe diventare più semplice Effettuare variazioni All'interno degli immobili Bisognerà attendere il testo completo Che verrà pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale Ma secondo le anticipazioni Ci saranno una serie di nuovi provvedimenti Di semplificazione Meno burocrazia Meno pratiche Per chi vuol dividere un appartamento Per ricavare altri spazi Oppure per chi ha necessità Di unire due alloggi separati Insomma Battere una parete O creare una porta Dovrebbe diventare più facile E soprattutto più veloce Secondo gli operatori del settore Si tratta di operazioni strutturali Molto frequenti In una città come Milano E' tutt'altro che raro Il caso di proprietari Che desiderano ricavare due appartamenti Da uno Di grandi dimensioni Secondo Claudio Lossa Già presidente degli agenti immobiliari Le procedure saranno più semplici Anche se non ci saranno risparmi consistenti Visto che nel capoluogo Lombardo Sulle suddivisioni E gli accorpamenti Non si pagano Oneri di urbanizzazione Con le nuove disposizioni Basterà presentare al Comune Una comunicazione Di inizio lavori Con il progetto E la dichiarazione Dell'impresa O dell'artigiano Che effettueranno i lavori Non ci sarà più bisogno Di attendere alcuna autorizzazione Sino ad ora Il Comune Doveva emanare Un permesso di costruzione Un nulla osta Alle opere Con tempi Notevolmente più lunghi Adesso sarà la dichiarazione Del professionista Incaricato di effettuare i lavori Che diventerà una garanzia Sia per il proprietario Dell'alloggio Sia per il settore tecnico Dell'amministrazione comunale 486.000 Sono gli appartamenti medi A Milano 146.000 Quelli popolari Le case signorili Raggiungono quota 121.000 Quelle di lusso 2.500 Ci sarebbe poi La volontà del governo Di agevolare Con un bonus fiscale L'acquisto di appartamenti Nuovi o ristrutturati Se poi vengono dati in affitto A canone concordato Ovviamente l'entità del bonus Sarà determinante Per sancire il successo O meno dell'iniziativa Si attende anche L'aggiornamento E l'adeguamento Dei canoni di locazione Che a Milano Sono stati stipulati In base a un accordo Del 1999 Ora una curiosità Perché un serpente Pensate Proprio un serpente Di un metro e mezzo Che striscia In via Losana Milano Oggi è stato vistato E fotografato Come vi facciamo vedere Tanti passanti spaventati Dopo aver visto il rettile Che per quanto ferito Fosse schiacciato Dalla rotta di un'auto Continuava a muoversi Hanno chiamato i vigili In servizio Vicino al mercato Di via Fouché Per chiedere aiuto La polizia locale Ha chiesto A propria volta L'intervento dell'EMPA Che è l'ente nazionale Protezione animali I volontari dell'ente Lo hanno recuperato Dalla strada E affidato alle cure Dei veterinari Nessuno per il momento Ha saputo fornire indicazioni Sulla provenienza Ovviamente Del serpente Insomma non si sa Chi lo ha abbandonato O gettato In strada Ora la cronaca milanese Perché giocattoli E materiale elettrico Non conformi alla legge E potenzialmente Anche pericolosi Sono stati sequestrati Dalla polizia locale Di Milano Nella solita Zona di Chinatown Vediamo Sequestrati 3200 pezzi Di materiale elettrico E giocattoli Non in regola Con le norme di legge Potenzialmente pericolosi Per la salute Dei più piccoli Il nucleo Anticontraffazione Della polizia locale Di Milano Ha rinvenuto La merce pericolosa Nel corso Di alcuni controlli Nelle vie commerciali Della zona Paolo Sarpi Pistole ad acqua Penarelli Ciabatte multipresa Prolunghe Adattatori E tubetti Di colla Stick Destinata ai bambini Con tanto di scritta Non tossico E invece pericolosi Perché contenenti Sostanze nocive Sono alcuni Degli oggetti Sequestrati In due operazioni Messe a segno Dal nucleo Anticontraffazione Della polizia locale Per un totale Di 3200 pezzi In via Giordano Bruno Nella Chinatown Milanese Nel corso Di un normale controllo In un negozio All'ingrosso Di casalinghi I vigili hanno individuato E sequestrato 500 oggetti Per lo più Materiale elettrico Privo dei requisiti Di sicurezza In quanto possibile Fonte di cortocircuito E incendi domestici Tre giorni prima Gli agenti avevano Sequestrato In via Rosmini Sempre da un rivenditore Cinese della zona 2700 tra articoli Di bigiotterie Giocattoli Che venivano venduti Senza etichettatura Istruzioni per l'uso Informazioni circa La composizione qualitativa E il confezionamento In entrambi i casi Il titolare Dell'esercizio commerciale È stato denunciato Per le irregolarità Segnalate Alla Camera di commercio Ai titolari Degli esercizi commerciali Sarà inflitta Una sanzione pecuniaria La merce sequestrata Verrà confiscata E distrutta Dall'inizio dell'anno A Milano Sono stati sequestrati 135 mila pezzi Questi due ultimi sequestri Ha spiegato L'assessore alla sicurezza Marco Granelli Sono la conferma Della presenza costante Della polizia locale Nella lotta Contro la contraffazione E la vendita Di oggetti In una norma Tossici E a volte Molto pericolosi Per i cittadini Purtroppo c'è stata Un'alta morte in culla Perché una bimba Di nove mesi Figlia di una coppia Di Ballabio In provincia di Lecco È stata trovata morta Nella sua culla Vittima di una possibile Morte bianca Dopo che era stata Messa a dormire Nell'abitazione Dei nonni materni Il dramma è accaduto Ieri pomeriggio La vittima si chiamava Deborah Ed era la seconda figlia Della coppia Che risiede nel centro All'imbocco Della valsassina La famiglia era andata In visita dai nonni E nel pomeriggio La nonna era stata Messa a dormire L'hanno svegliata Una prima volta Ma la seconda È stata trovata morta Il corpo sarà Sottoposto ad autopsia E i funerali Comunque sono già Stati fissati Per la giornata Di mercoledì Secondo anniversario Dalla morte Del cardinale Carlo Maria Martini L'arcivescovo Scola Ha presieduto Una follata Celebrazione in Duomo Martini ci insegna Anche oggi L'accoglienza per tutti E ci indica La possibilità Di un nuovo Umanesimo per Milano Sentiamo Anna Maria Braccini Guardare la città Come opportunità E non solo Come difficoltà Sapere ascoltare Tutti In modo Criticamente aperto Accogliere Senza scegliere L'ospite Le parole del Cardinal Martini E quelle del Cardinale Scola Che indica appunto Nel richiamo puntuale Al magistero Del predecessore Più volte citato La via di un nuovo Umanesimo Si fondono In un unico Alto insegnamento Pastorale Ma anche civile E sociale Sono trascorsi Esattamente due anni Dalla morte di Martini E in Duomo Lo si commemora Con la messa Presieduta Dall'arcivescovo Che indossa La mitra e il pastorale Che furono Del predecessore Martini Tra le navate gremite Ci sono anche La sorella Maris E il nipote Giovanni Facchini Martini Concelebrano il rito Oltre cento sacerdoti Tra cui il Cardinal Tettamanzi Sei vescovi Di ansia pastorale Di amore per il suo popolo Di apertura Parla al cardinale Che non a caso Cita il famoso discorso Pronunciato da Martini Nel 2002 Al comune di Milano Ma richiama a scuola Anche l'intera esistenza Vissuta nella fedeltà a Gesù Evidente in Martini Come pure nel beato Cardinal Schuster Di cui anche si fa memoria Se nasce qui La cura martiniana Da qui emerge anche un richiamo Forte e chiaro per l'oggi Soprattutto in un anno Che ci prepara All'evento Dell'Expo Che speriamo decisivo Per la ripresa Di Milano E non solo di Milano Mi preme Sottolineare Che una fede Vissuta E autenticamente Testimoniata Non può mai Chiudersi Tutti chiamati dunque A edificare Culture vivibili Così il richiamo Del cardinale Incontra Oggi L'istanza Più profonda Della città Metropolitana Di Milano E delle terre Lombarde L'ho definita Come l'urgenza Di un nuovo Umanesimo Poi al termine La preghiera Del cardinale Dei concelebranti Sulle tombe di Martini Qui anche un saluto Affettuoso ai parenti E sulla sepoltura Di Schuster Accompagnati Dalle litanie Dei santi Vescovi Milanesi Capiamo decisamente Argomento Passiamo al calcio Iniziato il campionato Il Milan Dinzaghi Dopo il bell'esordio Contro la Lazio Mette a segno Il colpo Bianbianì L'Inter Recrimina Per il pari Di Torino E rischia di vedere Sfumare Il sogno Lavezzi Mentre Hernandez Al Real Falcao Allo United E Juve Bruciata Su entrambi I fronti Sentiamo Jacopo Casoni Si chiude Alle 23 Non fanno che ripeterlo Manco fosse un mantra Il mercato prova ad accendersi Dopo aver sparato a salve Per due mesi buoni Il Condor Gagliani Ha portato in rosso-nero Van Ginkel Visite mediche superate In mattinata E Biabiani Costato 4 milioni E Zaccardo Ma ha perso Cristante Volato a Lisbona Sponda Benfica Per 6 milioni La Juve È stata travolta Invece dai milioni Di Real E Manchester United Con le merenghe Che hanno acquistato Cicciarito Hernández E gli inglesi Che di riflesso Hanno virato su Falcao Lavezzi Per l'Inter Rimane un sogno Forse impossibile Ma si chiude alle 23 Recita il mantra Intanto a Milano C'è chi sorride E chi storce il labbro La prima di Inzaghi È un flash che abbaglia Squadra quadrata Un po' in debito D'ossigeno nel finale Ma concreta Come lui Pippo Che in panchina Sembra la coppia Carta carbone Di quello che era in campo Scatenato Irascibile Nervoso il giusto Con un cuore Grande così La Lazio sbaglia approccio Pioli si fa trascinare Nello spartito dell'altro L'esordiente E finisce per beccare gol In contropiede A San Siro Bene così Aspettando Torres E Biabiani Con Inzaghi Che predica la calma E fa bene Così come fa bene Mazzarri a non deprimersi A chiedere a tutti Di fare altrettanto Lo 0-0 di Torino Ha un po' deluso Un ambiente rinvigorito Dall'ottimo precampionato Ma una mezza stecca In avvio Può starci E non è un dramma Quello che non è andato giù Al popolo nerazzurro Però è stato L'atteggiamento Troppo prudente La mancanza di verve Di gioco L'incepparsi Di un meccanismo Che sembrava oliato Al punto giusto La scelta di Cardi Unica punta Non ha convinto L'arbitro nemmeno Ed è giusto dire Che ci ha messo del suo Partenze diverse Tra loro Diverse da quelle attese Forse Ma partenze Minutaglia Spiccioli rispetto A una stagione Tutta da giocare Adesso sotto A lavorare con chi resta Perché le nazionali Reclamano spazio Soprattutto quella azzurra Che vivrà la sua prima Quella di Conte Del nuovo corso Dal quale Ci si aspetta il riscatto Era l'ultimo servizio A questo punto Non mi resta Che ringraziarvi Per la vostra attenzione Vi ricordo che dopo La pubblicità Come al solito Ci sono le previsioni Del tempo E dopo A seguire Nuova Stadio Sprint Con Luciano Rindone E i suoi ospiti Grazie per la vostra attenzione Arrivederci Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione